Continua la programmazione natalizia con un appuntamento che si è svolto stamattina alla Scala dei Turchi, il presepe vivente, organizzato dall'Istituto Comprensivo Garibaldi di Real Monte. Io per questo ringrazio la coordinatrice, la professoressa De Girolamo, nonché i professori che si sono adoperati affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Ringrazio il dirigente scolastico, la dottoressa Fazzi, distretto turistico che con noi quest'anno ha promosso queste attività natalizie, anche il dottore Lombardo Di Mare Amico che ha proposto una bellissima attività che si farà a Capodanno, questo nell'ambito di una destagionalizzazione. Ecco perché vedete oggi abbiamo quasi 30 gradi, una giornata bellissima, un sole e il Mediterraneo davanti a noi. La Sicilia è questo, il Real Monte è questo e noi vogliamo promuovere queste bellezze e vogliamo che insomma si faccia squadra affinché i ragazzi dell'Istituto Comprensivo che stamattina sono con noi, che sono il nostro presente ma sicuramente saranno anche il nostro futuro, possano partecipare attivamente in tutte le attività che l'amministrazione fa e soprattutto valorizzare il territorio con la cosa più bella che abbiamo, la bellezza.